Ora che abbiamo fatto, diciamo, buona parte del nostro percorso sul verbo, ok, bisogna un po' mettere, un po' mettere d'ordine appunto tra i verbi più comuni della terza coniugazione irregolare del terzo gruppo che abbiamo visto sinora. Quindi un buon ripasso delle loro forme al presente indicativo sarà, diciamo, utile per tutti. Il verbo être, che è il più comune assieme a avoir, e sono i primi verbi che si studiano appunto, suona così, ve lo ricorderete di certo. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Qui ho messo la fonetica tra parentesi del suono sont perché differisce appunto dal verbo successivo, che è il verbo avoir. Attenzione all'accento circonflesso su vous êtes, che recupera quello dell'infinito e di être, e indica appunto che nella storia della lingua è caduta una s. Questo ve lo ricorderete di certo. Avoir suonava così. J'ai, tu as, il as, nous avons, vous avez, ils ont. Ho messo la fonetica del suono z, che diciamo si genera dalla legatura di el oppure di il col verbo successivo on. Anno, giusto? Ecco, per cui il verbo avoir ci serve tantissimo perché oltre ad essere un verbo auxiliare, auxiliare come il verbo être, attenzione, il verbo avoir ci serve anche nel futur simple e nel futuro semplice per usare come desinenza. Diciamo, bisogna stare attenti perché è veramente un verbo molto importante. Il verbo aller, molto importante, anche abbastanza complicato perché è un verbo molto fortemente irregolare della terza coniugazione, anche se esce in er, non fatevi ingannare, è irregolare. Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Il verbo aller ci serve, come anche il verbo venir e il verbo être, per tre perifrasi che conosciamo e che appunto si chiamano i galicismi. I galicismi sono tre strutture che servono per esprimere tre tipi di azione. Quindi questi tre verbi aller, venir e être vanno saputi molto bene. Attenzione che non esiste la forma il, al, al plurale, non ingannatevi con appunto nous, e vous, il vont, è la terza plurale del presente. Attenzione, ok? Esattamente come non esiste tu vais, scritto vice, no, tu vas, ok? Quindi mi raccomando, imparatelo, ripassatelo bene. Venir è un verbo diciamo abbastanza semplice. Je viens, tu viens, il viens, con la nasale pura, vedete, nous venons, vous venez, ils viennent. Quindi questa nasale si apre col raddoppiamento della n, quindi viene, si pronuncia l'ultima plurale. Quindi il verbo venir si coniuga come il verbo tenir, quindi tenir ha la stessa coniugazione. Je tiens, tu tiens, il tiens, tonne, vous tenez, il tiens. Quindi questo è importante perché è un verbo anche fonte, è un verbo base per molti altri. Successivamente abbiamo il verbo faire. Il verbo faire ci serve assieme al verbo prendre per le azioni abituali di tutti i giorni. Quindi allora je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Non lasciatevi ingannare da nous faisons dicendo vous faisais che non esiste in francese. Vous faites, tra l'altro con la desinenza s, come quella di être, che era vous êtes con la s, e quella del successivo verbo dire, che è vous dites. Dire, faire e être sono gli unici tre verbi della lingua francese che hanno come seconda, diciamo, persona plurale la desinenza con la s al posto della z. Strano, ma è così. Quindi dicevo che appunto bisogna ricordarsi, ecco, nous faisons, vous faites, ils font. Ils font ricorda appunto ils vont, se vi ricordate del verbo aller. Quindi diciamo sono tutti un po' dei trucchi per saperli, però bisogna stare molto attenti con i verbi della terza coniugazione, perché sono fortemente irregolari, quindi bisogna, diciamo, avere un occhio di riguardo. Il verbo prendre, che vuol dire appunto prendere, je prends, tu prends, ils prends, vedete che hanno una D, anche se non la sto dicendo. Attenzione alle tre plurali che questa D invece la perdono, quindi nous prenons, vous prenez, ils prennent. Il prenne ricorda il vienne, se ci pensate, ok? Quindi poi abbiamo un verbo come, attenzione, prendre, tra l'altro genera dei composti, quindi comprendre, comprendere, e si coniuga così. Surprendre, sorprendere, apprendre, che vuol dire imparare, apprendere, si coniugano tutti così, eh? Quindi nous apprenons, noi impariamo, vous apprenez, ils apprennent. Insomma, bisogna cercare di, diciamo, ragionare anche con i verbi composti, che si coniugano come il verbo base. Il verbo mettre si coniuga in modo abbastanza semplice, je mets, tu mets, il mets, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Vedete, anche se è del terzo gruppo è abbastanza facile. Savoir, sapere, bisogna fare attenzione. Je sais, tu sais, ils saient, nous savons, vous savez, ils savent. Loro sanno, si dice, ils savent, non provate a dire qualcosa di strano, eh? È giusto così, ils savent, quindi va imparato molto bene, eh? Savoir si comporta come verbo modale, quindi a volte, appunto, è seguito dall'infinito, di un'azione, non so, io so cantare, je sais chanter, eccetera, eccetera. Quindi, il verbo dire, attenzione, il verbo dire, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, attenzione, voi dite, somiglia anche all'italiano, ok? Vous dites, ils disent. Ecco, bisogna fare attenzione a questo vous dites, che ricorda vous faites e vous êtes. Ripeto, être, dire e faire, sono tre verbi che hanno come seconda plurale una desinenza in S, ed è l'unico caso, diciamo, nel francese al presente, ok? Le verbo connaître è très particulier, è molto particolare il verbo conoscere, ok? Presenta questo accento circonflesso sulla I che indica la caduta di una S, ok? Deriva dal latino cognosco, e quindi è per quello che c'era una S, ok? Questo accento circonflesso torna in tutta la coniugazione, non solo al presente indicativo, quando c'è la desinenza con una T, quindi fate attenzione. Allora, je connais, tu connais, il connaître con accento circonflesso, perché c'è una T. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent, loro conoscono. Connaissent, non è un verbo del secondo gruppo, anche se somigliano questi is, sont, is, attenzione, però bisogna appunto studiarlo molto bene questo qua, per questo accento qua circonflesso che molto spesso tendete a dimenticarlo. Voir significa vedere, je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, ils voient. Vedete che si comporta come un verbo con la y del primo gruppo, la y torna alle prime due persone plurali, ma viene appunto, non c'è nelle prime tre e nell'ultima. E quindi je vois, io vedo, attenzione a questo voyons e voyons, e similmente a vedere si coniuga anche croire, credere. Je crois, tu crois, il crois, nous croyons, vous croyez, ils croient. Tra l'altro, il verbo croire, diversamente dall'italiano, non regge la preposizione di, no? Croire, de faire quelque chose, no? Croire, più infinito semplice. Per esempio, je crois voir une fille là-bas, credo di vedere, togliamo questo de in francese, non ci vuole, je crois voir, je crois entendre, ecco, bisogna così ricordarsi queste differenze perché è molto importante. Poi abbiamo i tre verbi modali per eccellenza che sono devoir, dovere, vouloir, volere e pouvoir, il potere, potere, no? Ecco, allora, devoir si coniuga così, allora, je dois, tu dois, il dois, nous devons, vous devez, ils doivent. Perché vi ho sottolineato le prime tre e l'ultima? Perché hanno quel dittongo oi, oi, le prime due plurali no, quindi state attenti, eh? Nous devons, vous devez, ils doivent. Va imparato così, col dittongo, le prime tre persone e l'ultima, ecco, per il resto è un verbo modale a tutti gli effetti, quindi regge un infinito, se volete appunto legarlo a un'altra azione, non so, io devo fare i compiti, je dois faire les devoirs. Vouloir e pouvoir hanno una coniugazione praticamente identica, quindi bisogna impararli bene insieme. Je veux, scritto Veus, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Quindi abbiamo Veulent, che riprende il dittongo delle prime tre, quindi attenzione a non replicare il dittongo in U delle prime due plurali, ok? Generalmente avete notato che questa terza plurale si lega alle prime tre, ma non sempre, bisogna fare attenzione. E appunto dicevamo, je peux, tu peux, il peut, similmente appunto al verbo vouloir, non pouvons, vous pouvez, ils peuvent, loro possono. Vedete che è molto simile la conjugaison, la coniugazione di questi due verbi al presente indicativo. Abbiamo infine, ho deciso di mettere questi due, che sono Ouvrir e Offrir, che hanno di facile il fatto che ricordano i verbi della prima coniugazione, anche se appartengono al terzo gruppo. Vedete che le desinenze sono E, E, S, E, ONCE, E, Z, ENT. Ecco, quindi abbiamo J'ouvre, o J'offre, tu ouvre, tu offre, il ouvre, il offre, che vuol dire appunto aprire, ovrir e offrir, vuol dire offrire, quindi molto molto evidente. Nous ouvrons, nous offrons, vous ouvrez, vous offrez, ils ouvrent, elles offrent. Quindi, attenzione, questi verbi si comportano come se fossero della prima coniugazione, però non in tutti i modi e i tempi. Al presente indicativo, sì. J'espère avoir été clair et complet. Spero vi sia piaciuta questa, diciamo, spiegazione dei verbi comuni della terza coniugazione. Ce ne sarebbero altri, ovviamente, però diciamo che quelli più evidenti, che abbiamo notato un po' finora, sono questi. E quindi, au revoire e a molto presto. Grazie. Grazie.